Guardi, con il perimetro che noi conosciamo già in Italia e che è un perimetro di centrodestra, dopodiché mi fa un po' sorridere se posso dire questo fatto che si veda il fatto che i partiti del centrodestra sono in famiglie politiche europee diverse come un problema quando è sempre stato così. Cioè non è che quando c'era il governo la maggioranza giallorossa per dire in Europa erano nella stessa famiglia europea. La dinamica delle elezioni europee è una dinamica molto più complessa e quindi si può tranquillamente far parte di famiglie politiche europee differenti, governare molto bene in Italia e le dico di più provare a governare insieme con un'Europa diversa anche dopo le prossime elezioni europee. Io penso che l'obiettivo di tutti e il nostro obiettivo debba essere e sia far crescere il ruolo dell'Italia in Europa e ragionare di costruire al Parlamento europeo una maggioranza che possa avere una visione compatibile rispetto a quello che abbiamo visto in passato.